Questa è la tua mamma? Una donna bellissima. Amore. Quanto bene le vuoi? Tantissimo. È la mia vita. Mi ha permesso tutto questo, ha fatto di tutto per me, quindi io devo tutto a lei. Cosa ha fatto, Giorgio, la tua mamma per te? Ha fatto tanto, ha cercato di darmi un futuro, ha sempre cercato di starmi vicino in tutti i modi possibili. Ha lavorato tanto anche per te, vero? Ha messo da parte la sua vita per la mia, quindi è una donna stupenda. Giorgio, l'hai fatto qualche regalo? L'hai già fatto qualche regalo? A mia madre sì, da quando ho intrapreso il mondo dei social, che potevo guadagnare qualcosina. Cosa l'hai regalato la prima volta alla tua mamma? La prima? Con tanto orgoglio. La prima volta a mia madre? Sì. Mi ricordo di avergli regalato una collanina. Una collanina. Dove l'hai presa? Ti dico, lì volevo fare il ragazzo un po' chic, quindi siamo andati a Seravalle. Ero contento di aver speso quei soldi per mia madre. Ero contento di avergliato il ragazzo un po' chic, quindi siamo andati a Seravalle.